Questo tutorial vi guiderà attraverso il processo di attivazione del vostro nuovo abbonamento Bitdefender con il minimo sforzo. Dopo aver completato l'ordine, è necessario attivarlo. È possibile attivare l'abbonamento via e-mail o con un codice. Questo tutorial mostra entrambi i metodi di attivazione. Mettete in pausa se avete bisogno di più tempo e iniziamo con il primo e più semplice metodo di attivazione. Attivazione istantanea via e-mail. Se hai acquistato Bitdefender online, vai all'e-mail di conferma inviata da Bitdefender poco dopo aver completato l'acquisto. Quindi premere il pulsante Attiva in Central. La pagina Bitdefender Central si aprirà nel browser web e l'abbonamento verrà attivato immediatamente, non appena accederai al tuo account. Se non hai ancora un account central, creane uno. Dopo aver effettuato l'accesso, scegliete come utilizzare il codice. Ad esempio, per estendere la validità dell'abbonamento attuale, scegliere la prima opzione. L'opzione per unire gli abbonamenti in un unico abbonamento è disponibile solo se uno degli abbonamenti Bitdefender attuali è identico a quello nuovo che si sta cercando di aggiungere. Per attivare il nuovo abbonamento separatamente dal servizio attuale, scegliere l'altra opzione. Una volta selezionata l'opzione preferita, premere il pulsante Conferma attivazione. L'abbonamento a Bitdefender è stato attivato con successo. Passiamo ora al metodo di attivazione numero 2. Attivazione manuale con un codice di attivazione. È una chiave alfanumerica di 10 caratteri. Si trova nell'email di conferma ricevuta dopo l'ordine online. Se avete acquistato un'edizione fisica di Bitdefender presso un rivenditore, controllate semplicemente all'interno della scatola la scheda in cui è stampato il codice. Una volta ottenuto il codice di attivazione, aprire il browser internet. A scopo illustrativo utilizziamo Microsoft Edge. Andare su central.bitdefender.com. Premere invio sulla tastiera per accedere alla pagina. Accedere con il proprio account Bitdefender Central o fare clic su Crea Account se non se ne possiede uno. Compilare le informazioni richieste e fare clic sul pulsante Crea Account. Ora sei connesso a Bitdefender Central. Se viene visualizzata questa schermata di benvenuto, fare clic su Inizia. Inserire il codice. Oppure selezionare i miei abbonamenti nella barra laterale e fare clic su Attiva con codice. Inserire il codice di attivazione. Quindi fare clic su Attiva e selezionare la modalità di utilizzo del codice. Confermare l'attivazione per completare il processo. Ora è possibile iniziare a proteggere i dispositivi da questa finestra. Se si dispone di un abbonamento per più dispositivi, guardare gli altri video per scoprire come installare Bitdefender su Windows, Mac OS, Android o iOS. Per ulteriori informazioni visitare bitdefender.it barra help, il centro di supporto Bitdefender.